Ciao e benvenuti a questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi di come poter chiedere e porre una domanda all'utente. Allora, noi abbiamo sempre il nostro sprite che lo possiamo posizionare dove vogliamo e in poca parola il nostro sprite verrà a chiederci come ci chiamiamo e noi diremo la nostra risposta e attenderà. Dirà poi l'unione dell'elemento 1 della domanda. Benvenuta. Potremmo metterci per esempio benvenuta. E questo di qui lo dirà l'elemento 1 più la risposta che noi stiamo dando. Inoltre noi chiederemo un altro elemento e attenderemo. Allora, adesso vediamo quali sono i blocchi. Poi nello specifico lo partiamo perché questo già è un po' più complesso rispetto agli altri. Si potrebbe fare anche più semplice scrivendo direttamente negli input. Per adesso non mi viene difficoltoso perché con questo tipo di scratch è difficile per esempio scriverci e quindi in conseguenza ho utilizzato la lista delle variabili. Che ne parleremo in un secondo momento. Cioè nel senso la lista delle variabili come le variabili è una cosa differente dalla costante. Ciò significa che praticamente c'è un elenco di elementi cui io posso attingere. Perché variano e quindi vi faccio l'elenco e ogni volta posso attingere. Allora, per adesso però vediamo l'animazione nello specifico e poi magari facciamo una lezione sulla lista delle variabili. Che è una cosa molto interessante. Iniziamo con l'animazione. Vedete, lui c'è il bambino, no, il gattino chiederà qual è il nostro nome e dirà. Noi possiamo dire un nome a caso. Chiara, facciamo Chiara. Mi dispiace se non si vede molto bene. E lui direbbe benvenuta, Chiara. Salta con me. E noi gli rispondiamo sì. E adesso non farà niente. Perché lui attendeva soltanto la risposta. Se noi inseriamo anche vai a y0, che poi è quello che cambia durante il salto, salta, lui dovrebbe saltare. Adesso vediamo se è vero. Iniziamo. Abbiamo messo lo spazio e vedete che con lo spazio effettivamente dà lo spazio. Allora, come ti chiami? Floriana. Flori. Mi sto inventando i nomi, no? Flori. Lui dice benvenuto Flori. Salta con me e gli mettiamo sì. Perché adesso non facciamo neanche il controllo. Prossimamente possiamo fare il controllo. Ha saltato. Ha cambiato la sua posizione. Perché prima era in una situazione, era 0,0,0,Y. Quindi adesso è 10. Perché in poche parole che è successo? Io con questi blocchi in movimento, gli ho detto di posizione 0, di cambiare 10 e di ritornare a meno 20. Quindi è saltato 30, però è ritornato a meno 20. Quindi di conseguenza la nostra y è diventata 10. Perché non è tornata a 0 come prima, ma ha cambiato. Perché se io avessi messo invece qui meno 30, sarebbe tornato di nuovo alla posizione iniziale. Allora, cosa abbiamo qui praticamente? Un blocco è sempre lo stesso blocco che fa non creare, che avvia la nostra animazione. Un blocco chiedi, che non è altro che un blocco sensore. Che è differente da quello dire? Perché il dire lo spray ti dice e basta. Quando chiede, invece lui attende la risposta. Questo blocco permette di poter porre una domanda all'utente. Il blocco attenderà fin quando non verrà schiacciato invio. Comparirà proprio questo input, dove dovremmo inserire il nostro nome, cognome, dipende da quello che ci chiedono. E inoltre, dopo che l'abbiamo inserito, se non schiacciamo invio, lui attenderà ancora. Quando schiacciamo invio, prenderà la risposta. E noi diremo, unione, perché vedete qua diremo, è un blocco dire, unione di elemento di domanda. Allora, unione in poche parole non sono altro che operatori. Gli operatori servono solitamente per, ci sono diversi tipi di operatori, ci sono quelli logici, ci sono quelli che permettono, no, di dire se un numero è maggiore o minore, oppure ci sono proprio quelli anche che permettono quelli di poter unire le domande, le risposte, insomma, quello che si vuole, anche frasi, tranquillissimamente. Qui però per esempio permettono gli operatori, quelli col più, permettono per esempio di poter fare l'addizione. Se per esempio io nell'input, no, facciamo un esempio subito, dire metto 5 più 5, lui metterà la frase 5 più 5. Se invece metto l'operatore 5 più 5, lui mi dirà direttamente il numero, cioè 10. Comunque lo faremo a breve, questo tipo di cosa, ve lo farò vedere proprio come verrà strutturato. Noi abbiamo utilizzato un coso di unione, ciò significa, unione significa che unisce questo con questo, unisce sia, per esempio apple e banana. Se io metto apple e banana, unirà apple e banana. La frase permette di unire, quindi io dico, unisci l'elemento 1 di domande. Le domande, per esempio, sono diverse, e il primo elemento, vedete, io dico elemento 1 di domande, che è nella mia lista, farà in modo che comparirà benvenuta, e poi gli dirò oltre a dire benvenuta, che è praticamente quello che io volevo sapere, è la risposta, quindi dipende da quello che gli risponde la persona. Poi farò chiedere un'altra domanda, dell'elemento 2, quindi dirà salta con me, che è l'altro elemento della lista. E inoltre poi abbiamo blocchi movimento, che già abbiamo visto, e blocchi controllo. Questi sono, diciamo, dei blocchi un pochettino più particolari, sia perché ci sono praticamente le liste, e sia perché ci sono gli operatori, ma ne parleremo a breve, sia per quanto riguarda le liste, e sia per quanto riguarda l'unione degli operatori.